Numerose le innovazioni relative al settore ambientale nel comune di Castellabate è stata sviluppata infatti una modifica complessiva dell'organizzazione, comprendente l'attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure per sviluppare, riesaminare e migliorare la politica ambientale sul territorio. La gestione dei rifiuti in primis è stata completamente rivoluzionata per ottimizzare il servizio di raccolta differenziata, ottenendo un ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali di un territorio già primato da importanti riconoscimenti e dotato di un'isola ecologica all'avanguardia per fornire tutte le informazioni utili alla cittadinanza. L'amministrazione comunale in accordo con Sarim, società che gestisce il servizio, ha in programma alcuni incontri pubblici, oltre a una distribuzione puntuale del nuovo calendario per il ritiro dei rifiuti e del kit da utilizzare per il conferimento. Una prima conferenza in programma mercoledì 16 gennaio alle ore 10.30, presso l'Aula Consiliare del Comune di Castellabate. Il sindaco Costabile Spinelli dichiara in merito alle modifiche del servizio. Il nostro impegno ha portato Castellabate ad essere all'avanguardia nel settore ambientale, ma non ci accontentiamo, diventando uno dei primi comuni pronti ad adottare tali novità e investendo ulteriormente in un settore cruciale che richiede anche la collaborazione dei cittadini, sempre più sensibili ed informati, che invitiamo ad una partecipazione attiva e responsabile. Esprime soddisfazione l'assessore all'ambiente Domenico di Luccia. Attraverso un sistema più puntuale ed efficace di conferimento e di smaltimento dei rifiuti, puntiamo ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune. Castellabate si distingue ancora una volta per l'attenzione che pone al settore di salvaguardia ambientale, fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.